In diretta una nuova puntata di Imperfetta Salute, versione estiva. Come ogni giovedì sera in prima serata, dalle 21 fino alle 21.30, con la dottoressa Anna-Lisa Subacchi cercheremo modi, metodi, diete e tanti consigli soprattutto per arrivare in perfetta salute sotto l'ombrellone. Questa sera parleremo, già ve lo anticipo, della frutta e della verdura della stagione estiva. Sfateremo alcuni miti e invece ne confermeremo altri. Sempre sotto l'occhio vigile ed esperto della nostra biologa nutrizionista. Dunque io vi invito intanto a segnarvi i nostri numeri di telefono 0372 8056 per intervenire telefonicamente in diretta con la dottoressa Subacchi. Ci sono attivi anche gli sms 342 599 7969. A tra poco con Imperfetta Salute, vi aspetto. Prepariamoci per l'estate. Questo è il sottotitolo che abbiamo scelto per questo ciclo di puntate di Imperfetta Salute, come ogni giovedì sera in diretta sulla nostra emittente. Allora, benvenuti a tutti, bentornati dunque al nostro appuntamento settimanale con Imperfetta Salute e bentornata alla dottoressa Annalisa Subacchi, biologo nutrizionista. Buonasera dottoressa. Buonasera a tutti, grazie. Siamo sempre nella nostra spiaggia ricreata all'interno dei nostri studi, giusto per rimarcare che è un ciclo completamente estivo, quello che andiamo appunto ad affrontare fino alla fine di giugno, dottoressa, perché tutti, lo sappiamo, ci teniamo ad arrivare in forma e in perfetta salute alla prova costume. Assolutamente. Le corse per le nuove, per le diete, per le alimentazioni, per perdere quei chili di troppo, la pancetta, la cellulite, di tutto di più, chi più ne ha più ne metta per arrivare alla prova costume in perfetta salute. Ma soprattutto per arrivare alla prova costume, è vero, con qualche chilo e meno, con niente cellulite o perlomeno meno cellulite e zero pancetta, ma soprattutto stando bene, perché spesso si ricorrono, l'abbiamo parlato la puntata precedente, a diete che non fanno bene per la salute, che magari fanno perdere anche peso e si ottiene il risultato, ma poi come ci si arriva, dottoressa? Certo, ci si arriva stremati, ci si arriva con una perdita di muscolatura, una perdita quindi di tonicità, quindi si è più flaccidi, si sarà un po' più magri di qualche chiletto, però la pelle reagisce negativamente. Quindi dobbiamo cercare un metodo, un modo, proprio per alimentare correttamente le nostre cellule e per arrivare con qualche chiletto in meno, magari pochi chili in meno, però perfetti dal punto di vista nutrizionale, con buoni rapporti di grasso, di muscolo e di ritenzione di liquidi. Dottoressa, ricordiamo i nostri telespettatori che siamo in diretta, vedete i recapiti in sovrimpressione, 342-599-7969 e per mandare un sms, ora vi andrò a svelare anche il tema, 0372-8056 invece per telefonare proprio ed entrare in linea diretta con la dottoressa Subacchi. Prima però, dottoressa, di entrare, di addentrarci nel tema di questa puntata, dobbiamo rispondere a una mail che ci è arrivata da un nostro telespettatore che in qualche modo si ricollega alle diete veloci di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ci scrive il signor Giovanni, dottoressa, la settimana scorsa ci ha parlato di una dieta lampo di due settimane per buttare giù la pancia e in effetti è stato proprio uno dei temi centrali. Ma l'estate sta arrivando, nonostante il tempo magari sia ancora un po' troppo incerto, il tempo stringe. In che cosa consiste questa dieta lampo? Possiamo svelarvi, posso svelarvi una tipologia di dieta lampo da rifare per una settimana, da rifare per due settimane, quindi una settimana di dieta lampo che si può riciclare per due settimane massimo. Iniziamo con i primi due giorni, magari iniziamo da lunedì, lunedì e martedì. Colazione, tè verde che è un buon antiossidante, un buon bicchiere di acqua e limone e un bel frutto, 150 grammi di frutta, qualsiasi tipo di frutta. A pranzo verdure a volontà, a cena verdure da volontà. Quindi due giorni proprio di verdure che servono per depurarci. Verdure o minestroni anche di verdure, a seconda del periodo e anche della stagione e anche del calore che si può trovare in questi due giorni. A volontà? A volontà. Pranzo, cena a volontà? Esatto. Dopo i due giorni seguire un'altra tipologia che dura tre giorni con, attenzione, la pasta a colazione. Non sono impazzita. No, ci scombussola un po' i nostri, diciamo, immaginari collettivi di colazione. Certo. Perché la pasta a colazione? Si parla di 40-60 grammi di pasta condita con olio. Perché la pasta libera serotonina, che è l'ormone della felicità. Quindi ci dà gratificazione. E serve proprio per stimolare la ritenzione di liquidi e cominciare a drenare, a perdere peso soprattutto di liquidi. Si arriva poi con questa pasta a colazione, seguita anche da un caffè, se vogliamo aggiungerci anche quello. Un po' difficile da pensarlo, eh? Ce lo concedo, dottoressa Subatti. Quanto paziente che ha pasta a colazione l'ha fatta condita con le verdure. Quindi è riuscita a condire la pasta a colazione con le verdure. Se mi sta ascoltando qualche mia paziente sa com'è questa tipologia e che risultati può dare. Arriviamo a pranzo con una piccola porzione di carne o di pesce, sempre con verdura a volontà, e alla sera verdura a volontà. Quindi è un po' drastica per cinque giorni, ma non vado a intaccare le proprietà nutrizionali del mio corpo, la muscolatura. Vado soprattutto a lavorare sulla stasi, sul ristagno proprio dei liquidi corporei. Ovviamente, dopo una tipologia del genere, bisogna ribilanciare l'alimentazione in modo corretto, perché capite che sono diete fast, diete proprio fulmine, che mi servono per stimolare il metabolismo. Quindi spesso vengono utilizzate per donne in menopausa, che hanno un metabolismo proprio bloccato, quindi serve per dare loro un po' una botta, una mossa. Quanto si perde, dottoressa, l'incirca, magari mediamente? Possiamo perdere un chilo, che ha un metabolismo abbastanza lento, e i miei pazienti che hanno perso di più siamo nell'ordine dei tre chili, tre chili e mezzo. Insomma, voglio dire che mi sembra fast, ma ha un ottimo risultato, insomma. Ovviamente, sempre controllata, che non abbiate controindicazioni, quindi problematiche ronali, problematiche anche di diverticoli, quindi problematiche di gonfiore addominale, quindi stiamo parlando di diete in persone sane. In persone sane, esatto, non affitte da alcun tipo di patologia. Bene, dunque abbiamo risposto al signor Giovanni, quindi si prepari a mangiare la pasta a colazione. Questa è il consiglio della dottoressa Subacchi, la pasta a colazione. Dottoressa, quindi torniamo sul tema di questa sera, un tema assolutamente estivo, perché la frutta e la verdura ci ricordano immediatamente l'estate e il clima estivo. Dunque, parleremo di frutta e verdura, di miti da sfatare e invece miti da confermare in qualche modo. Quindi, carta e penna per tutti, perché arrivano i consigli della dottoressa Subacchi. Intanto, alterniamo come sempre i consigli, la nostra chiacchierata, ai vostri messaggi, quindi voi continuate a scriverci, che la regia manderà automaticamente poi i messaggi quando arrivano. Dottoressa, l'abbiamo preparato, anzi ha preparato lei, una serie di frutti estivi. Bisogna però, cerchiamo di analizzarli insieme completamente per capire quale fa bene, quale non fa bene, a chi fa bene, a chi non fa bene. Partiamo subito dall'anguria, dottoressa. Ecco, guarda, è già comparsa l'anguria che tutti conosceranno. L'ho voluta scegliere perché è il frutto per l'eccellenza per l'estate. Chi è che non ha mai mangiato l'anguria durante il periodo estivo? L'anguria che cosa evoca? Drenaggio, quindi io consumo anguria per stare leggera, quindi per drenare tutti i liquidi, quindi magari dopo un pasto abbondante posso terminarlo, piuttosto che con un gelato, con una bella fetta d'anguria. L'anguria mi serve proprio per idratarmi, per bere, quindi in quelle sere di estate particolarmente calde è qualcosa che gratifica, forse diventa più rinfrescante del gelato stesso. Ma? C'è un ma? C'è un ma. Infatti il suo discorso arrivava proprio col tono di voce al ma. La frutta, l'anguria è molto zuccherina anche. Nessuno parla dello zucchero che può essere contenuto nella stessa anguria. Quindi sì, può essere utilizzata come sostitutivo del pasto, ma non come addizionante al pasto stesso. Quindi sì, l'anguria mi aiuta per drenare, per eliminare i liquidi, quindi va a stimolare il mio sistema renale. Quindi un consiglio che vi do è non consumatela di sera, altrimenti rischiereste proprio di passare tutta la notte a fare pipì e quindi a cercare proprio di drenare tutti questi liquidi. Quindi sarebbe meglio magari consumarla durante il mezzogiorno. Inoltre l'anguria è sconsigliata per chi soffre di ipertiroidismo, perché è molto ricca anche di iodio e quindi andrebbe a stimolare troppo la tiroide. Quindi per esempio è consigliata per chi ha una tiroide lenta, che non lavora. Dottoressa, intanto arrivano i messaggi. Come dicevamo, mangio prima l'insalata, poi la pasta. È utile? Questa è una tendenza che veniva adottata soprattutto in passato e viene anche adottata oggi, soprattutto per chi ha queste fami nervose. Diciamo che l'insalata è un deterrente proprio per riempire lo stomaco. Quindi l'insalata riempie e gonfia, la pasta viene consumata meno velocemente in quantità più ridotte. Quindi l'insalata utilizzata per dimagrire non è assolutamente vero. L'insalata può essere utilizzata proprio per cercare di gonfiarci e non avere meno fame poi nel pasto successivo nell'introduzione per esempio di un ridotto introito di carboidrati. Diciamo che l'insalata fa un po' quello che fa il palloncino in certe diete. Quindi si gonfia nello stomaco e mi dà quel senso di sazietà. Quali sono i frutti migliori per idratare la pelle e perché? Ne parleremo nella seconda slide. Ah, che la seconda slide è dedicata interamente al melone, un altro frutto estivo. Esatto, anche il melone possiamo rispondere anche alla domanda della telespettatrice. Guardi, siamo circondati da palloncini, materassini, anguri e meloni. Manca il cocktail, dottoressa. Esatto. Parleremo anche dei cocktail estivi. Allora, diciamo melone. Il melone, anche questo, il melone è un drenante, quindi mi serve proprio per stimolare la diuresi. E il melone, e vengono fatte anche certe creme a base di melone, base di cetriolo, base di melone, ma viene utilizzato anche per idratare la pelle. Quindi se vogliamo rispondere alla domanda della nostra telespettatrice, il melone potrebbe essere utilizzato. Esistono due tipi di melone. Il melone è questo, che è il melone estivo, ma esiste anche il melone giallo, quello che assomiglia un po' al pallone da rugby, quello un pochino più allungato. Il melone, diciamo che è sconsigliato sempre per chi soffre di ipertiroidismo, perché è il cugino, il fratello, il parente dell'anguria, e quindi anche se l'anguria è sconsigliata per l'ipertiroideo, quindi una tiroide che iper lavora troppo accelerata, è consigliato invece per chi ha una tiroide un pochino lenta. Un pasto ideale, per esempio, per stimolare la tiroide e quindi anche il metabolismo potrebbe essere 150 grammi di pesce, quindi una bella porzione di pesce, con della insalata e magari due fettine di melone, 200-300 grammi di melone. Guardate, quindi abbiamo anche una serata in cui la dottoressa Subacchi dispensa piccole ricette, molto veloci, molto semplici, con i valori nutrizionali corretti per essere proprio in perfetta salute. Andiamo avanti noi con la nostra carrellata, intanto che la regia manda avanti i messaggi, noi andiamo avanti con la nostra carrellata, perché ci coloriamo di rosso, barra rosa, ovvero entriamo nel mondo delle fragole. Esatto. Si vedono tantissime in giro adesso, dottoressa. E comincia a essere la stagione, quindi cominciano ad arrivare, non sono le fragole di uno o due mesi fa, ma sono le fragole di adesso che cominciano ad arrivare, anche quelle fragoline selvatiche che si possono trovare in certi orti. La fragola è un alimento, paradossalmente, che ha un bassissimo contenuto di zuccheri. Quindi la fragola potrebbe essere un buono spuntino, un buon menù per i nostri bambini, una bella macedonia di fragole al pomeriggio, con magari una pallina di gelato alla frutta. Stavo per chiederglielo infatti, perché a volte si fa gelato e fragole, oppure gelato e tre cucchiai di zucchero sopra. Sì, proprio perché la fragola ha un basso contenuto di zuccheri, quindi di solito si abbonda proprio con lo zucchero. Però già la fragola di per sé potrebbe essere già un alimento completo con un buon contenuto proprio di zuccheri. Se l'anguria è paragonabile a 5-6 zollette di zucchero per 100 grammi, le fragole si parla di due zollette e mezzo, quindi hanno proprio un introito molto ridotto. Anche le fragole sono molto ricche di vitamina C, quindi è frutta di stagione, usiamole. Ottimo, ma perché spesso ci si mette su anche il limone? Il limone perché c'è questa credenza proprio di cercare di digerire un po' meglio. E forse il limone è anche un antiossidante, quindi quando si tagliano le macedonia di frutta, viene spruzzato proprio il limone per cercare di non far annerire, per non far riattivare quei processi di degradazione che la frutta avrebbe si lasciato all'aria aperta. Un trucco potrebbe essere per i nostri bambini anche una macedonia di frutta con una piccola porzione anche di succo di frutta, piuttosto che aggiungere lo zucchero. Lo succo di frutta è già dolcificato, fa quella acquetta che piace ai bambini, che potrebbe essere dolciastra e quindi usufruibile. Un altro luogo comune, ne ho sentito spesso parlare anch'io, è vero che con le carote ci si abbronza meglio? Diciamo che le carote hanno questi beta carotenoidi. Sì, si vedono quei piatti giganti di carote. Carote, insalata, pomodori, di tutto di più. Sì, tutta la frutta colorata è ricca proprio di queste sostanze beta carotenoidi che aiutano proprio l'abbronzatura. Esistono anche degli integratori a base proprio di questi carotenoidi che vengono utilizzati nel periodo proprio autunnale o primaverile proprio per stimolare questa abbronzatura, soprattutto nel periodo primaverile. Funzionano? Funzionano, diciamo che se ci alimentiamo correttamente e quindi abbiamo le nostre cinque porzioni di frutta e di verdura al giorno possiamo anche fare a meno proprio di queste sostanze, di questi integratori. Quindi va bene, promuoviamo in qualche modo le fragole e diciamo che le carote comunque tutto sommato è vero, servono per mantenere un po' l'abbronzatura. D'estate mi dicono che ci siano frutti tropicali che energizzano. Stara pensando papaya, mango? Probabilmente. L'ananas? Ci stiamo arrivando? Ci stiamo arrivando. Quindi è vero che energizzano dei frutti? Non sono energizzanti, li utilizzano proprio per questi cocktail energizzanti, però è un'associazione proprio di più sostanze. Spesso questi cocktail hanno anche degli alcol, quindi sembrano che siano energizzanti perché mi danno più energia, perché mi danno un maggior introito di frutti. Però la frutta non è energizzante, la frutta è solo disidratante. Idratante, scusate. Io devo fare una domanda in merito, dottoressa, perché d'estate molto spesso, poi adesso è scappata un po' la mania di centrifughe, di frutta, di verdura, di frullati, cosa ne pensa? Perché spesso comunque la frutta è coprotagonista, quantomeno. Certo. Allora immaginate una mela che è ricca di fibra. Se io la spezzo, la trito, la frullo, io spacco la fibra e quindi espongo maggiormente il carboidrato, che è lo zucchero. Lo zucchero che è presente normalmente nella frutta, che è il fruttosio. Quindi i centrifugati, questi frullati, questa frutta frullata tritata, è più calorica rispetto a un frutto integro, che ha ancora la sua bella fibra. Quindi questi centrifugati, che vanno tanto di moda, fanno bene da una parte, perché è un cocktail proprio di vitamine. Il problema è che sono molto energizzanti, forse in quel senso, nel senso che sono molto calorici, e quindi non sono così dietetici come potrebbe sembrare. Perché adesso va veramente di moda, anche non al mare, non in spiaggia, però farseli anche a casa, ci sono questi attrezzi rivoluzionari che sembrano veramente che funzionino. Molti cocktail puntano molto su questi centrifugati, garantendo quindi la maggior leggerezza di questi prodotti, però tenete conto che è un cocktail dentro anche dell'alcol. Quindi alla fine vado a limitare la leggerezza della frutta, aumentando proprio la quantità di alcol e di zuccheri. Io sono allergico al nickel, quale frutta posso mangiare? L'aspettavo questa domanda. È arrivata, puntuale anche. Nuova scoperta dei miei nickel nell'ultimo periodo, il melone giallo, che è quello invernale, dà meno problemi rispetto al melone normale, quello estivo. E come si fa a trovare l'estate il melone invernale? È un po' più difficile, quindi anche per i nickel la frutta estiva diventa un po' più problematica. Le fragole, se un nickel non ha problemi proprio di stamina, quindi di infiammazione, me li può consumare. Le albicocche, sbucciate. Sicuramente, come sanno bene i nickel, i frutti con la P sono quelli vietati. Pera, pesca, prugna, la susina, cocomero e melone anche. Quindi quelli che stiamo allencando per i miei nickel sarebbero un pochino da eliminare. Procediamo, dottoressa Subacchi. Parliamo della banana. La banana è il frutto per eccellenza che viene consumato sia in ufficio che sia a scuola perché è comodo, è pratico. Comodo, non serve coltello, non serve niente. Esatto. Il problema è che è un frutto abbastanza pesante, quindi abbastanza corposo e addirittura per chi soffre di cefalea sarebbe sconsigliato. Perché al suo interno possiede delle sostanze come la tiramina che sono pesanti e peggiorano proprio l'infiammazione e la cefalea. Un po' come i formaggi. Quindi si pensa di fare buona cosa consumando magari banane, poi alla fine magari peggiora proprio la mia situazione di malessere e di mal di testa. Comunque sia la banana con moderazione perché è tra i frutti più calorici che ci possano essere. Ve l'ho consigliata prima nella dieta disintossicante perché è l'unico frutto che mangiavamo nei primi due giorni di solo verdure. Forse quello che ci dava più energia assoluta, la banana che poteva essere introdotto nella colazione. Comunque diceva che è un frutto pesante. Mi ricordo come la mia mamma mi dicesse di non mangiare la banana la sera. Esatto. È vero? Esatto, perché è molto difficile da digerire perché proprio per queste sostanze diventa corposa e quindi il mio corpo richiede molta più energia per cercare proprio di sintetizzarla e di smaltirla. Tra l'altro è sconsigliata per chi ha problemi anche renali proprio perché va a gravare anche sul discorso renale. 342-599-7969, aspettiamo i vostri messaggi, intanto la regia li mandi pure in onda quando arrivano. Parliamo dell'ananas. L'ananas. L'ananas fino a qualche tempo fa si pensava o si pensa che l'ananas sia una sostanza drenante oppure una sostanza che brucia i grassi. Quindi spesso mi capita anche al ristorante di sentire persone dopo un laudo pasto, ordino l'ananas perché almeno digerisco e quindi brucio i grassi che ho introdotto con l'alimentazione. Diciamo che non è tutto falso perché l'ananas contiene la bromellina che è una sostanza che serve per digerire le proteine. Quindi dopo un pasto abbondante per esempio a base di proteine, una bella costata, una grigliata di carne o di pesce, per esempio l'ananas potrebbe essere un buon digestivo. Quindi a fine grigliata? A fine grigliata potrebbe essere un'alternativa. Magari un ananas scaldato con un leggero strato di cannella nel forno oppure nel microonde dà quel retrogusto un pochino sfizioso oppure abbrustolito anche perché no. L'ananas è pericoloso per chi ha problemi per esempio di coagulazione perché va proprio a drenare, quindi se prendo pastiglie per la coagulazione, per non coagulare il sangue oppure sono in gravidanza o in allattamento per esempio l'ananas è sconsigliato proprio perché va a fluidificare troppo, rende molto fluido il sangue e quindi diventa pericoloso in questi soggetti. E' utile negli sportivi, infatti spesso sportivi che seguono delle chimosi, degli strappi muscolari utilizzano ananas perché la bromelina serve per asciugare proprio tutti questi ematomi che si formano. Allora la nostra telespettatrice chiede una dieta adeguata per chi lavora solo di notte. Certo il metabolismo è un po' sballato. La notte è importantissima. La notte è come se fosse la sua giornata, quindi perché no iniziare per esempio la cena con un bel piatto di piasta, con le verdure e con un pezzetto di carne o di pesce. Durante la notte, quindi trasferire tutto ciò che viene fatto durante la giornata nel periodo della notte. Quindi la sua metanotte, il suo mezzanotte, uno spuntino per esempio a base di frutta, alla fine smonterà questa signora alle sei, alle sei e mezza del mattino fare una colazione e poi ritornare a letto. Quindi cercare di trovare quella regolarità nell'alimentazione come se lei stesse lavorando di giorno, però lavora di notte. Frutta ma anche verdura in questa nostra carrellata di frutta e verdura estiva. Centrifuga o estrattore? Eccolo. Quale da preferire? È la stessa identica cosa. Diciamo che se ho problemi di nickel come la signora di prima, molto meglio l'estrattore, perché l'estrattore toglie la fibra e quindi riduce il contenuto di nickel negli elementi. Però se non ho problemi e voglio dimagrire, che sia centrifuga che sia estrattore è un po' la stessa cosa. È la stessa cosa. E allora rosso, rosso pomodoro. Quindi passiamo alla verdura, dottoressa. È il pomodoro, è il frutto per l'eccellenza, non per i nickel perché è altissimo contenuto di nickel, ma è il frutto dell'eccellenza dell'estate. Comunque mi stai avendo un po' fame, posso dirgli a dottoressa, perché data l'ora qui frutta è il pomodoro. Esatto. Il pomodoro si trova in tutte le insalate. Prima parlavamo della carota, ma anche il pomodoro la fa da padrone. Il pomodoro, quel rosso, il licopene, è questo antiossidante naturale che contiene il pomodoro. Il pomodoro non fa bene per tutti. Ritorniamo alle persone che hanno problemi di tiroide. Limita la funzionalità tiroidea. Quindi che sia in ipertiroidismo, che sia in ipotiroidismo, quindi che funziona tanto o funziona poco, il pomodoro non mi va bene. Tra l'altro l'accostamento pasta col pomodoro mi va a limitare ulteriormente la funzionalità tiroidea. Quindi lo eliminiamo. Quindi sarebbe meglio da eliminarlo, da metterlo nell'insalata, da mangiarlo da parte, da utilizzarlo per esempio con il pesce, che è ricco di iodio e quindi potrebbe stimolare la tiroide. Quindi vediamo che tutti i frutti vanno ad attivare o disattivare determinati organi. Quindi non è che il pomodoro, il frutto per l'eccellenza, fa bene a tutti. Bisogna vedere. Lo dice sempre la dottoressa, che ogni alimento può far bene a una persona, ma può non far bene a un'altra persona. Certo. Pensiamo a una persona che ha gastrite. Il pomodoro è molto acido, quindi non posso consumare sostanze che mi vanno proprio a ridurre la mia funzionalità corporea. Oppure, come dicevo prima, il nickel. Il nickel è il pomodoro, è il frutto per eccellenza, la verdura per eccellenza che contiene nickel. Quindi per loro è veleno. Assolutamente da eliminare. Gli asparagi, vabbè, adesso gli asparagi, le uova con gli asparagi. Le uova con gli asparagi sono abbastanza pesanti. Dal punto di vista proprio renale è un sovraccaricamento, è un sovraccarico. Ci stai distruggendo un po' i miti, dottoressa Zuvanchi. Sono tutti quei miti che ci siamo trasmessi per anni e poi il biologo, il nutrizionista, è riuscito a smontare completamente. Però non è, non voglio distruggervi tutta la vostra frutta e verdura. Vi sto solo dicendo è, perché mangio insalate e pomodoro tutti i giorni in grasso? Probabilmente c'è qualcosa che non c'è. Potrebbe essere anche qualcosa che non va. Dunque, l'asparagi è pesante? È un po' pesante, è molto ricco di ferro. Infatti non va bene anche per chi ha problemi, per esempio, di gotta. Quindi ha problemi anche di troppe proteine plasmatiche. Quindi è un ortaggio molto pesante da digerire. L'asparago per eccellenza ha l'asparagina, che è questa sostanza che puzza subito nelle urine. Quindi questo odore entra subito in circolo. È un buon drenante per chi non ha problemi proprio renali o problemi metabolici. Allora, due parole di numero sull'insalata e poi rispondiamo al messaggio. Dottoressa, l'insalata? Tutte le varietà. L'insalata non è solo lattuga. L'insalata è anche l'indivia, la valerana, la cicoria, il radicchio, la rucola. Quindi cercate di utilizzare più verdure possibili e più insalate possibili. E come dico sempre, non siamo mucche. Non abbiamo quattro stomaci. Quindi cercate di consumare verdure piccoline, che si frantumano. Quindi di spezzarle anche con la forchetta e il pomodoro. Quindi cercare quella predigestione che inizia già nel piatto. Come depurare e curare un fegato steatosico e quale cibo evitare? Allora, un fegato grasso si intende. Quindi un fegato che fa fatica a drenare, un filtro che è intossicato. L'alimento per eccellenza è il cardiomariano, il carciofo, il cinar. Quindi utilizzare sia prodotti che sono a base proprio di cardiomariano o carciofo, o perché no, il tarassaco che si trova nei nostri campi depurativo, il carciofo stesso. Quindi sostanze amarognole, l'indivia, la cicoria, la rucola. Sostanze amare che vanno a disintossicare proprio il fegato. E perché no, anche la bromellina dell'ananas, che aiuta a digerire proprio queste proteine e a faticare meno il fegato. Dottoressa Subacchi, il tempo a disposizione è veramente volato, ve ne sarete accorti tutti. Io vi ricordo, la settimana prossima diamo giusto un anticipo, parleremo della dieta, anzi del lei e lui sotto l'ombrellone cellulite e addio pancetta. Esatto. Quindi un tema assolutamente trasversale. Vi ricordo il libro della dottoressa Subacchi, e quello qua la dieta della dottoressa Subacchi secondo le intolleranze alimentari. Alla fine trovate anche delle ricette, anche queste da poter portarvi anche comodamente in vacanza, proprio il libro, così vi risolvete i vostri problemi di intolleranza. Dove riceve dottoressa? A Cremona, a Crema e anche a Manervio. Su Facebook, Lisa Nutrizionista. Sappiamo che ha un grande numero di seguaci la dottoressa Subacchi anche su Facebook, poi c'è il sito. Poi c'è il sito www.nutrizionistabiologo.it oppure il sito dell'associazione agliaconlus.org. Dottoressa, grazie dunque per averci dispensato anche questa settimana consigli su frutta e verdura, so e sono certa che i nostri spettatori hanno preso anche appunti. Adesso andiamo a mangiare. Assolutamente. Adesso andiamo a mangiare un bel piatto di pasta. Sì. Ce la concediamo dopo questa puntata. Alla sera sì. Alla sera sì. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento sempre sulla nostra emittente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.